Buonasera, siamo al Palazzetto dello Sport di Sarno dove si è appena conclusa la gara di Coppa Italia ottavi di finale tra PM Avis Potenza 4D per Sisa Sarno. Abbiamo il piacere, questa sera ci sfugge sempre, però questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Graziella Loree, forte banda, forte attaccante della squadra locale al quale vogliamo chiedere innanzitutto questa sera la partita com'è andata? La partita è andata benissimo, oltre il risultato che alla fine si conta, però il nostro obiettivo oggi era dimostrare che siamo una squadra che nonostante tutte le difficoltà riusciamo ad allenarci, ad andare in campo, grintose e vincere. Questa sera, anche altre serie, però questa sera un po' particolarmente ci hai deliziato con le tue pipe, effettivamente parecchie pipe sono finite a terra, forse probabilmente più dalla seconda linea che dalla prima. No, vabbè, sicuramente oggi la palleggiatrice ha distribuito benissimo il gioco, come sempre, però oggi la squadra c'era e ha fatto giocare. Alla fine, o prima o seconda linea, l'importante è che do il mio aiuto, come io, come tutta la squadra. Assolutamente determinante il tuo contributo, ne siamo certi, ne siamo convinti, però ci dobbiamo subito riconcentrare per il campionato, sabato prossimo una partita molto tosta, molto importante, con una squadra che ci precede di appena un punto in classifica, la lotta per il quarto posto con il Sabaudia. Come la vedi? Sicuramente sarà una partita dura, non sarà facile, però adesso, domani, si ricomincia in palestra a lavorare e speriamo bene. Va bene, ti ringraziamo per la tua disponibilità e forza, mi raccomando, a sabato. Ciao, grazie, ciao. Ci ha raggiunto il mister Gagliardi del PMA Viste Potenza, ci rincontriamo dopo 7-8 settimane, la prima gara di campionato l'avevamo svolta, l'avevamo giocata appunto lì a Potenza e ci ritrovavamo a commentare un risultato diverso, assolutamente diverso da quello odierno, un 3-0 che purtroppo la dice tutto. Abbiamo visto la squadra del Potenza faticare molto in ricezione, peccare molto in ricezione e quindi questa fallosità in ricezione ha determinato ovviamente, come succede nella pala a volo, una costruzione di gioco non facile, non limpida, non lineare. Ho letto bene la gara? Sicuramente sì, uno dei nostri punti di forza è il gioco con i centrali e quindi il tenere impegnati il più possibile il muro avversario, soprattutto sul rotondo, il problema è che se a questo ci aggiungiamo una miriade di errori in battuta e altrettanti errori in attacco, soprattutto dai giocatori che dovrebbero nei momenti di difficoltà gestire il colpo d'attacco in maniera più attenta, più equilibrata, insomma alla fine poi si arriva ad un risultato come questo. Noi cercheremo adesso di giocare una buona partita, ne mancano due di campionata alla fine, prima della sorsa di Natale e poi la Coppa contro di voi dove se vogliamo passare il turno dobbiamo vincere 3-0 e allo stesso tempo andarci a giocare il set di spareggio. Quindi questo è l'obiettivo. È chiaro che noi non siamo così brutti perché oggettivamente stasera abbiamo offerto una prestazione non degna di questo nome però va dato merito al Sarno di aver interpretato abbastanza bene il fondamentale della battuta escludendo quasi completamente il libero Iazzetti da quelle che erano le battute, insomma la qualità della battuta avversaria quando Iazzetti ha ricevuto abbiamo avuto la possibilità di giocare primo tempo poi per il resto sono state molto brave nel mettere in difficoltà i nostri attaccanti ricevitori. Ha fatto tutto lei, non mi ha fatto lavorare per nulla, ha fatto un'analisi completa quindi non possiamo che augurarle un arrivederci a potenza per la gara di ritorno e poi qui di nuovo a Sarno per quella di campionato. Arrivederci, grazie. Grazie a lei. È qui Luca Loparco al quale ovviamente vogliamo chiedere un po' stasera come è andata questa gara anche se sono pochi commenti da fare, la squadra ha giocato bene, bene in ricezione, percentuali in ricezione altissime nel mentre percentuali in ricezione bassissime dall'altra parte del campo, cioè il Potenza ha ricevuto molto male non ha attaccato come ha attaccato nella gara di andata del campionato e penso che questa sia in pratica un po' l'analisi di questa gara. Comunque un 3-0 facile? Siamo riusciti a metterla in difficoltà da subito col fondamentale della battuta e poi penso che anche il muro e la difesa hanno lavorato benissimo forse probabilmente grazie proprio a questa battuta che oggi è andata benissimo. Poi le ragazze mi sembravano ben concentrate, volevano fare bella figura sia a contropotenza che nella prima partita di campionato ci ha dato un secco 3-1 ma anche per continuare il tragitto della Coppa Italia. Vogliamo arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, speriamo di riuscirci. Basterà un set nella prossima gara prevista per il 21 di dicembre e potremmo passare tranquillamente ai quarti di finale? Ma sì, non si può sicuramente andare là per prendere un set bisogna andare là per giocare la partita e per rendere al massimo poi il risultato più importante è vedere il gioco e vedere le ragazze che lavorano tantissimo questa è la cosa più importante e più bella. Va bene, allora ci vediamo sabato prossimo per la gara di campionato con il Sabaudia. Ciao e grazie.